Finisce qui. Questo è il titolo del video e questo è soprattutto il succo di questo video. Sapete quanto io ami parlare, dilungarmi, passare le ore per esprimere anche solo un concetto, però cercherò di non essere molto prolisso nei concetti e di essere abbastanza sintetico. È giunto al termine, quindi si è stoppata ora con un netto anticipo rispetto a quello che era, insomma, il nostro obiettivo, la Winter Cup. Questo torneo organizzato in primis da Andrew, ma poi anche da me. Mi dispiace ragazzi, non lo nego, adesso io non ho visto i video degli altri partecipanti, quindi non so quello che hanno detto, ma quello che posso dirvi è che intanto sono contento che si sia notato, almeno tra di noi, quanto io fino alla fine abbia provato ad evitare che questo stop avvenisse. Ma non voglio comunque essere triste perché voglio vederla positivamente. Questa è un'avventura che purtroppo, almeno dal punto di vista professionale, se così vogliamo dire, quindi in primis l'idea stessa, l'avventura, quindi vi parlo del torneo, però purtroppo non è andato bene perché appunto si è interrotto, tra l'altro mi ruote perché proprio nel momento in cui stavo recuperando posizioni. Voglio invece guardarla da un altro punto di vista, da quello umano, e quindi sono molto contento, intanto ringrazio e lo farò infinitamente Andrew, perché io personalmente non lo conoscevo, però ho conosciuto una persona splendida, sembra banale dirlo in questo momento, ma in realtà ragazzi ci sono mille testimonianze che potrebbero affermare questa cosa, quindi vi posso dire intanto che presto partirà una serie insieme in Coop, ma poi in generale noi ci sentiamo tutti i giorni, più volte al giorno, e quindi ho trovato un amico, sono molto contento. Ma poi non escluderei anche tutti gli altri, perché con tutti ho un ottimo rapporto, anche ecco in questo momento difficile, spesso i rapporti più veri si vedono proprio nei momenti difficili. Sono contento che comunque siamo rimasti uniti, perché ve lo assicuro, la Winter Cup è finita, sì, però noi comunque vi prometto che continueremo a portarvi, se ci riusciamo contenuti insieme, ma state tranquilli perché la cosa più importante è che tra di noi non c'è nessun conflitto, rapporti perfetti. Tanto per dire, bella FIFA verrà da me per i Romics, quindi l'ho ospitato anche in casa mia senza troppi problemi, quindi veramente, tra l'altro, aspettatevi cose fighe perché sono cose fighe. Insomma, chiusa una porta, si apre un portone. Purtroppo è finita, purtroppo lo sottolineo perché avrei voluto portare a termine questa avventura, così non è stato, ma sicuramente mi ha permesso di conoscere delle persone splendide con cui sicuramente porterò avanti un ottimo rapporto. Io ringrazio tutti, ringrazio ancora una volta Andrew, e saluto tutti gli altri partecipanti, li elenco perché è il minimo che possa fare, quindi un bacione a Rudy Zlatan, Enigma, Harry Lazza, Kemp, Andrew, bella FIFA, sick, e senza dimenticare anche il nostro grafico che è Yas, è stato Yas. Stop! Finisce qui anche questo video, io vi do appuntamento ai prossimi video che usciranno sul mio canale, se eravate qui solamente per la Winter Cup o se mi avete conosciuto per la Winter Cup vi invito a seguire a questo punto un'altra mia serie che invece sta andando benissimo e che portiamo avanti sempre insieme anche con il pubblico che è ovviamente la carriera che vi lascio qui sotto in descrizione, ma qui sotto in descrizione trovate anche ovviamente i video, il video di chiusura che hanno fatto anche gli altri e tutti i canali ovviamente, quindi io saluto ancora tutti, un bacione e a presto!